Devo dire grazie alla lega di tutto il Veneto perché 9 comuni su 9 riconfermati, più 6 strappati al centro-sinistra, più altri 7 vinti come coalizione. Quindi devo dire che c'è una riscosso, una ripartenza che nell'arco di pochi mesi è bellissima. E anche a noi che siamo i leghisti al governo, ero adesso al telefono con Roberto Calderoli che avrà l'onore e l'onere di portare a termine il percorso dell'autonomia. Insomma il consenso dei trevigiani, dei vicentini, dei veronesi ci serve e ci aiuta. Cosa ti aspetta adesso da un sindaco che vince col 65%? Di fare bene quello che ha fatto per 5 anni e quindi dal mio punto di vista tutte le infrastrutture che stiamo sbloccando in tutto il paese, anche a Treviso in Veneto, andranno avanti spedite. E poi mi aspetto che, come ha fatto in questi anni, faccia crescere una classe dirigente che sia il futuro di Treviso. La crescita di Mario Conte politica ci scommetterebbe? È una risorsa sicuramente. Si parla di Mario Conte per il dopo Zaia. Sì, adesso siamo al dopo Conte di Conte, quindi c'ha 5 anni davanti. Poi è chiaro che la tradizione di buon governo in regione andrà alimentata. C'è il discorso del terzo mandato in essere, sia per i governatori che per i sindaci, su cui sono assolutamente disponibili a ragionare. Ci sono le province da reintrodurre, elette direttamente dal popolo, come è giusto che sia, con poteri, denari e competenze. Quindi diciamo che abbiamo dei mesi stimolanti davanti.